Aveva chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio, nascondendo però al fisco redditi per oltre 300.000 euro. Nella domanda, infatti, aveva dichiarato di aver ottenuto nel 2022 redditi pari a 11.000 euro. A smascherarlo sono stati i finanzieri di Treviso, che hanno anche scoperto che l'uomo era un pluri pregiudicato, già gravato da numerosi precedenti contro il patrimonio ed ancora indagato per episodi di truffa, essorzione e lesioni personali. I profitti illeciti sarebbero derivati da truffe compiute anche in provincia di Arezzo ai danni di acquiranti che, dopo aver risposto ad annunci online relativi alla vendita di automobili usate, avevano versato anticipi senza però ottenere i veicoli. L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso, che nei giorni scorsi ha notificato la conclusione delle indagini preliminari. È stato ovviamente anche escluso dalla missione e il gratuito patrocinio, istituto che come noto consente alla persona non abbiante di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.